Buongiorno a tutti, grazie per essere qui per l'Edge Invest in Macquarie Fund, l'update di maggio. Maggio è stato un mese un po' difficile per noi, abbiamo avuto una performance negativa di circa il 2%, rimaniamo positivi ovviamente sull'anno, intorno all'1 o qualcosa. La maggior parte delle perdite deriva dal portafoglio di Special Situations, soprattutto su Dish, Dish ha avuto degli earnings che hanno impattato lo stock e anche i convertibili. La nostra view è che la maggior parte delle aspettative erano un po' troppo positive sulla velocità a cui Dish sta costruendo il nuovo 5G Network e c'erano forse troppe aspettative di un commercial agreement con grandi player quali Amazon. Rimaniamo molto bullish su Dish, pensiamo che Dish stia facendo esattamente quello che ha promesso di fare e quello che deve fare e diventerà uno dei top 5G providers in the United States, che è un mercato enorme. Pensiamo che il loro network sia cutting edge e sarà molto più efficiente e anche efficace di quelli esistenti dei grandi player quali Verizon e T-Mobile. Pensiamo che il deployment produrrà delle news particolarmente positive in modo crescente nei prossimi mesi, quarters e quindi siamo rimasti sulla posizione. A parte quello, sul resto de Special Situations la performance è stata relativamente modesta overall. Rimaniamo committi da pochissime posizioni lunghe, soprattutto nella parte telecom, telecom infrastructure e energy and energy transition. Sul resto abbiamo ridotto ancora di più e prendendo profitto su alcune posizioni sulla cannabis e su altre situazioni liquide, dato che ci aspettiamo che a livello macro ci sia una notevole illiquidità dentro l'estate. Ci aspettiamo le pressioni inflazionistiche che rimangano molto elevate, anzi che accelerino in modo significativo durante l'estate. È la prima estate dopo due anni di Covid e quindi ci aspettiamo che l'inflazione prosegua. E in particolar modo sull'Europa, dove pensiamo che ci sia la probabilità più alta di un policy mistake da parte dell'ICB. Sulla Cina abbiamo ridotto un po' delle posizioni corte temporaneamente perché c'era tutto questo entusiasmo sulla riapertura. Rimaniamo convinti che la Cina abbia gestito malissimo il Covid e siano assolutamente indietro sul resto dell'Occidente e quindi purtroppo destinati ad altri problemi da qui a fine anno, soprattutto con l'intensificazione degli effetti stagionali legati al Covid. Rimaniamo abbastanza bearish overall sul mercato e quindi abbiamo posizionato il book sia con posizioni ribassiste ma anche cercando di aumentare il più possibile la liquidità e riducendo posizioni illiquide o che possono diventare liquide dentro l'estate. Grazie.